Nuova stretta sul covid. Da oggi, 1 febbraio 2022, sarà necessario il Green Pass, super o base, per accedere a banche, poste, tabacchi e uffici pubblici. A stabilirlo il Decreto Legge 1 2022 approvato dal Governo a fine gennaio. L'obbligo sarà esteso anche agli over 50 che ad oggi non hanno ancora fatto il vaccino. In caso di mancata esibizione della carta verde, multe dai 400 ai 6.000 euro. Stamane negli uffici, i dipendenti dotati di scanner QR hanno controllato l'utenza, sia nelle banche che negli uffici postali. In alcuni casi, le novità riferite al Green Pass hanno creato file e momenti di caos. Meglio la situazione nei tabacchi, dove ovviamente la pressione del pubblico è inferiore a quella delle banche o delle poste. Qualche malumore in più tra i piccoli esercenti. Per loro la verifica del Green Pass rischia di essere un problema. E qui i controlli finiscono per diventare a campione. Spuntano anche i negozi no pass, eclatante la protesta a Capri all'esterno di un famoso negozio di orologi sulla celebre via Camerelle. No al Green Pass, no alla discriminazione, no alle reggi razziali. Discriminare chi entra in negozio è una vergogna, si legge su un cartello affisso dal titolare. Intanto, prolungata la normativa che prevede l'utilizzo della mascherina per strada e la chiusura dei locali da ballo per altri dieci giorni. Il sottosegretario Sileri, nelle ultime ore, auspica una fine dello stato di emergenza entro il 31 di marzo. Intanto in Campania, scendo alla pressione sulle terapie intensive, resta costante invece quella sui ricoveri ordinari. Omicron e Omicron 2 stanno contagiando sempre più bambini. Colpa anche della lentezza delle vaccinazioni da parte della famiglia.